Bentornati o benvenuti sul mio canale amici, sono Elisa True Crime e oggi ho un annuncio da farvi, un annuncione, un annuncio che mi ha particolarmente scioccata. Siete pronti? Me l'avete chiesto in ogni modo possibile, me l'avete chiesto su Instagram, mi avete lasciato commenti su YouTube, la domanda che mi fate più spesso in assoluto, ovvero ma perché non trasformi i tuoi video in dei podcast? Ebbene amici, finalmente vi ho accontentati perché oggi ufficialmente è uscito il mio nuovo podcast in collaborazione con One Podcast e con Radio DJ. Ogni lunedì uscirà un nuovo episodio di questa prima stagione dedicata alle donne, donne killer, donne vittime, ma anche donne che non smettono mai di lottare. Lo potete ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ, ma anche su Spotify, sull'app di podcast di Apple e su ogni piattaforma principale di podcast, insomma. Non perdetevi i primi due episodi che sono usciti oggi e mi verrebbe da dirvi, prego non c'è di che, ma in realtà dovrei solo dirvi grazie perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile.